amici buongiorno oggi vi mostro questa doppietta che possiedo da diversi anni e che ho acquistato appositamente per la caccia nel bosco praticando spesso una caccia in boschi magari piuttosto fitti dove è necessario avere un fucile piuttosto maneggevole e non troppo lungo perché le canne lunghe spesso nel bosco sono d'impaccio sono un po critiche diciamo ho acquistato questa doppietta che alle canne da 58 centimetri è abbastanza maneggevole anche tutto sommato abbastanza leggera pur essendo parecchio robusta si tratta di un una doppietta di grillo come ho detto con canne da 58 la prima è cilindrica e la seconda e quattro stelle è dotata di tacca di mira abbattibile e mirino il calcio è mezza pistola è adatta anche molto per la caccia cinghiale personalmente non pratico la caccia in battuta al cinghiale mi è capitato qualche volta di incontrarne qualcuno devo dire che questa doppietta si è comportata benissimo il il calibro calibro 12 perché il calibro 12 e magari non oggi ho notato della tendenza è usare calibri più piccoli tipo il 20 il 28 il 410 calibro 16 sì che sì è vero sono sono tutti i calibri ottimi che che rendono le armi più molto leggere sono molto leggere anche piuttosto maneggevoli però a mio avviso per questo tipo di caccia non inconveniente che per avere delle buone rosate con quei calibri bisogna avere le canne piuttosto lunghe e questo in un bosco piuttosto fitto crea qualche problema mi è capitato spesso infatti con altri fucili di trovarmi magari a dover fare a dover fare delle imbracciature veloci trovarmi la canna a sbattere contro qualche contro qualche ramo contro contro dentro qualche cespuglio quindi non poter tirare oppure fare dei tiri un po così alla insomma fatia in qualche maniera niente vi lascio alle immagini dettagliate di questo fucile se avete qualche qualche curiosità qualche qualche domanda qualche cosa da fare lasciatemi la pure in bacheca e vi risponderò vi ringrazio per aver ascoltato e vi saluto alla prossima alla prossima puntata ottima ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti.